Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una cappa è il posto giusto Ora di preparare la merenda, faremo insieme dei cinnamon roll facilissimi Ci occorrerà della cannella in polvere, dello zucchero, non ci sono quantità Dipende da quanto li volete dolci e quanto li volete cannellosi Poi della vanillina, ma se avete la vaniglia naturale è molto meglio Io non ce l'avevo e quindi mi dovrò accontentare Due rotoli di pasta sfoglia, e sì, l'idea mi è venuta proprio da qui E poi io li farò formare all'interno di questi pirottini Ma potrete utilizzare anche la teglia per muffin Iniziamo subito In una ciotola versiamo un pochino di zucchero Un bel po' a dire il vero, non un pochino, perché dovrà ricoprire tutta la superficie E sarà l'unico ingrediente, diciamo così, dei nostri muffin E poi cannella, quanta ne desiderate? Io abbonderò Mescolo ben bene E siamo pronti Apro la mia sfoglia Sfoglia in commercio ce ne sono moltissime buone Ma sinceramente parlando a me, una di quelle che piace di più è proprio questa della Lidl Sfoglia molto bene ed è molto buona di sapore Non è nauseante A questo punto prendiamo un po' della nostra farcia E cospargiamo Con la mano ben pulita livello su tutto lo zucchero E prendo la mia seconda sfoglia Prendo la seconda sfoglia E la adagio così Sopra la prima Scivolerà abbastanza facilmente Perché essendoci lo zucchero non aderirà completamente La schiaccio specialmente sui margini In modo da farla stare ferma insieme all'altra Così E metto un altro strato di zucchero e cannella Questo strato è molto più cannelloso del precedente Con le dita vedete Spiano proprio lo zucchero In modo che ci sia la stessa quantità in tutte le parti Quindi finalmente è giunto il momento di arrotolare E mi aiuto con la stessa carta forno Quindi piego Ripiego Ripiego ancora E faccio un bel rollino Metto il taglio sotto Prendo un coltello E inizio a tagliare A fette I miei rollini Faccio fette di circa 3 cm Potete farli anche più alti Vengono solo molto più grossi Intanto accendo il forno Preriscaldo a 200 gradi Adesso prendo i pirottini Prendo un rotolino E lo metto qui Così Starà molto largo E lo poggio sulla leccarda Questa è un'altra di quelle ricette Facili D'effetto Da fare Se uno non sa cucinare Perché ci sta anche Che non piaccia stare troppo ai fornelli Ma che si voglia fare qualcosa per gli amici O per i più piccoli E di casa E allora specialmente adesso Che si avvicina il periodo natalizio Questi sono perfetti Ma anche in autunno Questi sono l'emblema dell'autunno Come dolcetti Con un buon caffè E adesso in forno Per 15-20 minuti Finché non avranno sfogliato Guardate sempre Il vostro vassoio di cinnamon roll Perché ogni forno è a sé Quindi io vi do come tempo indicativo 15-20 minuti Ma potrebbero starci No meno di 15 non credo Ma forse 25 Sì a seconda della potenza del vostro forno Io lo uso sia ventilato che statico Quindi nella funzione combinata Se non avete il ventilato 200 gradi statico Preriscaldato va bene lo stesso Adesso facciamo la glassa Normalmente la glassa dai cinnamon roll Dovrebbe essere fatta con Zucchero a velo Albume E succo di limone Bene Io non voglio usare l'albume Perché questo dà una breve scadenza Il cinnamon roll Non ho lo zucchero a velo Perché ragazzi Nella maggior parte delle nostre case Non c'è lo zucchero a velo E quindi Ah meglio Nella mia non c'è Non voglio parlare per gli altri Metterò del limone Che ci sta benissimo Perché proprio li rinfresca Rinfresca il burro della pasta sfoglia E metto il succo di un intero limone Un bel po' di zucchero Un 3 cucchiai circa Voilà Quattro Una bustina di vanillina Ma se avete la vaniglia Preferitela sempre E frullate bene il tutto In modo da affinare la grana dello zucchero Prendete un pochino d'acqua Ma veramente poca Così Un cucchiaio diciamo D'acqua E a cucchiaio a cucchiaio Iniziamo ad aggiungerla Deve venire cremosa Morbida Tipo yogurt Non liquida Quindi non abbondate troppo Con L'acqua Un cucchiaio basterà Oltre al succo di limone E continuate E continuate a frullare Finché non avrà un aspetto Bello vellutato e lucido Ok La mia glassa È pronta Aspettiamo i cinnamon roll E se vi state chiedendo Cosa sono quei pezzettini Che si vedono Era un semino di un limone Era il semino del limone Che non ho tolto E vabbè Porta aromi e oli essenziali Capita A chi cucina davvero Ed eccoci pronti Per sfornare I nostri dolcetti Come avete sentito Appena spento il forno Io non li faccio Imbiondire più di tanto Perché a me piacciono Più pallidini Ma se volete Voi tenete gli altri Cinque minuti Guardate che belli Guardate Appena tirati fuori dal forno Wow Con lo zucchero caramellato Che nel frattempo Appunto È caramellato insieme Alla cannella Una farcitura Una farcitura Veramente fantastica Lasciamoli riposare Qualche minuto Dopodichè Con un cucchiaio Prendiamo la glassa E mettiamo Neanche un cucchiaio di glassa Su ognuno Vedete Mezzo cucchiaio di glassa Su ogni cinnamon roll Che delizia Voi prima Fateli raffreddare Non troppo E neanche troppo poco Glassati i nostri dolcetti Sono pronti Per essere gustati E ora vi lascio Alle foto Ciao Ciao Ciao